La domenica possiamo prendere il treno per andare a Fontane Bianche e fermarci? Se non è domenica, giorno 8 agosto, questo treno, Barocco Line, sarà disponibile sia per la fermata di Fontane Bianche che per la fermata di Avola. In un primo momento non avevamo previsto le due fermate o la fermata di Fontane Bianche perché nel passato c'è stata poco frequentazione. Successivamente a seguito di una richiesta da parte dei territori invece riteniamo che oggi anche questo servizio deve essere garantito alla luce del fatto che la popolazione viaggiante, i passeggeri soltanto nel 2019 rispetto al 2018 hanno visto un incremento di 1.200.000 unità e nei primi due mesi prima del Covid del 2020 c'è stato in due mesi 210.000 passeggeri in più rispetto al medesimo periodo del 2019. Quindi questo ci fa ben sperare e ci suggerisce di incrementare il servizio anche ferroviario.